Come facciamo i nostri saladini? Uno tira l'altro perché usiamo la pasta sfoglia fatta con il burro e per forza che è fragrante e saporita, per la farcitura solo materie prime selezionate. Conservateli in un luogo fresco e asciutto e lontano dall'umidità e fuori trigo. La dispensa di casa va bene con la confezione in cui vengono acquistati che è già pensata per conservarli al meglio. Non servono altri imballi e così, oltre che buoni, siamo anche sostenibili. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.